Scopri le nostre offerte per le tue forniture energetiche. Da noi i prezzi più bassi per luce e gas e li blocchiamo per 12 mesi. Terrenia Energia ti metti al centro con una consulenza personalizzata per le tue esigenze. Vieni a trovarci a Cava di Terreni in via Vittorio Veneto 158. Saremo lieti di offrirti la nostra esperienza. La polizia ha arrestato durante la notte appena trascorsa quattro tifosi scafatesi resisi responsabili di atteggiamenti violenti domenica a Sarno presso lo stadio Squitieri dove si è disputato l'incontro di calcio tra San Marzano e Scafatese valevole per il campionato di eccellenza. Durante le fasi in cui i tifosi affluivano allo stadio un gruppo di 15 ultras della Scafatese a bordo di un minivan di colore bianco e due autovetture non avendo seguito il percorso prestabilito per l'arrivo in sicurezza al settore ospiti dello stadio hanno raggiunto l'ingresso del settore dedicato ai sostenitori del San Marzano, quelli locali. Giunti in prossimità dell'accesso con volto travisato e muniti di mazze gli stessi sono scesi dai veicoli lanciando due petardi e due fumogeni contro i tifosi locali provocando il ferimento di tre persone delle quali due medicate in campo e una in pronto soccorso dove è stata giudicata guaribile con una prognosi di 10 giorni. Le indagini volte all'identificazione degli autori dell'aggressione sono state condotte dal personale della DIGOS di Salerno ed è commissariato Repubblica Sicurezza Risarno coordinato dalla procura di Nocera Inferiore. L'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e delle riprese del gabinetto provinciale di polizia scientifica hanno consentito l'arresto di quattro cittadini residenti a Scafati. Di uno le iniziali sono CP classe 98 con precedenti di polizia, il secondo BR classe 92 con precedenti di polizia, il terzo FG classe 92 già destinatario di un DASPO scaduto nel 2018 e il quarto MA classe 91 con precedenti di polizia. I quattro tifosi sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e il questore di Salerno li ha proposti per il DASPO. Grazie a tutti.